Iachini in extremis, davvero nei minuti di recupero, salva l'iscrizione del Teramo. L'ipotesi di lavoro che si era aperta stamattina è diventata la strada anche del diavolo dopo il pronunciamento della Tar del Lazio che aveva respinto il ricorso della Federcalcio che avrebbe voluto cancellare la decisione del collegio di garanzia del CONI sull'introduzione dell'indice di liquidità come criterio per iscriversi al campionato il diavolo che su quel parametro era impossibilitato e non avrebbe avuto tempo di versare una cifra troppo consistente scommette sulla buona riuscita della presentazione della domanda che poi andrà al vaglio della Covizoc per le verifiche di congruità dei parametri. Dunque all'ultimo respiro il diavolo si concede una possibilità da vedere quanto praticabile ma comunque migliore del baratro. La dirigenza ha ultimato la preparazione dei documenti in extremis e come aveva anticipato ieri il Tribunale di Roma è stato Iacchini a dover sopperire a quanto ancora pendente con la fiduzione che ieri era stato terreno di scontro i 350.000 euro che ballavano da giorni portavano anche un peso enorme appresso quelli per i quali il Teramo poteva perdere il calcio professionistico. Ora la palla dall'Abruzzo passa inevitabilmente a Firenze e all'organo di vigilanza delle società professionistiche che esaminate le carte dovrà dare l'ok definitivo. L'intervento di Iacchini si è reso necessario dopo il no allo sblocco di alcuni fondi da parte del Tribunale di Roma che i Ciacci avevano richiesto per poter procedere a inoltrare la domanda di iscrizione. A questo punto non c'erano alternative che non fossero. L'intervento in extremis. L'ex presidente attuale socio di minoranza è intervenuto con una somma che andasse a coprire quello che non si è riusciti ad avere attraverso il foro capitolino. Ed ecco che a poche ore dal gong il diavolo sembra avercela fatta. Il rischio era quello del baratro di una mancata iscrizione che in ogni caso ora deve passare al vaglio degli organi competenti. Ma per il momento il Teramo può tirare davvero un sospiro di sollievo.